Ci facciamo un bel caffettino? Stanchi dello stress cittadino? Billy Crystal e Jack Palance vi suggeriscono la vacanza adatta. Gente di città! Che sta succedendo? La mucca sta per fartorire! Ci pensa da sola o dobbiamo chiamare un ginecologo? Infila il braccio e tira fuori il vitello! Questo non c'era scritto sul depriante. Scappo dalla città. La vita, l'amore e le vacche. Ero venuto per fare una vacanza!